E' diviso il Piemonte sulla questione cittadinanza per i bambini stranieri che nascono in Italia, 3.500 ogni anno secondo il rapporto Caritas Migrantes. L'opinione pubblica e politica si è spaccata a poche ore di distanza dalle dichiarazioni del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sul diritto alla cittadinanza italiana per i figli di extracomunitari. Mi trovo d'accordo, se uno nasce e si trova in Italia per qualsiasi motivo ha il diritto ad avere eventualmente la doppia cittadinanza. Pur essendo simpatizzante diciamo con la Lega, però sto fatto qua mi ha messo un po' in grisi. La legge attuale non permette infatti il cosiddetto ius soli, cioè la cittadinanza per diritto di nascita. Per essere italiani a tutti gli effetti i bambini nati sul suolo nazionale devono poter dimostrare di avere genitori in possesso del passaporto italiano oppure arrivare al diciottesimo anno di età senza mai abbandonare i confini di Stato. Negare questo diritto ai bambini è follia, è una sordità, ha detto il Presidente, indicando nell'integrazione una necessità per un paese come il nostro con un tasso di multiculturalità sempre più alto. Divisa l'opinione degli abitanti di Torino, città da sempre cartina di tonne a sole dell'immigrazione nazionale con oltre 130.000 extracomunitari registrati, circa il 15% della popolazione. In molti si dicono d'accordo con il Capo dello Stato sulla necessità di integrare gli stranieri. Sicuramente i figli degli immigrati si sentirebbero più coinvolti nella politica italiana. Credo che sia giusto perché comunque un ragazzo che nasce qua, che cresce qua, che comunque impara la cultura del paese è giusto che abbia i diritti e i doveri di che abita qua, quindi abbia tutto ciò che comporta la vera cittadinanza italiana. Molti anche gli scettici che preferirebbero concentrarsi sulla crisi economica e sul problema della regolarizzazione dei flussi migratori piuttosto che sul tema della cittadinanza. Se uno nasce in Italia il problema è a monte. Prima di parlare bisogna prima regolamentare tutto, metterli all'ordine. E c'è persino chi ne fa una questione di tradizione giuridica, parlando di come il nostro sia da sempre un paese basato sullo ius sanguinis, il diritto di sangue. Non lo trovo giusto perché se non ero noi deriviamo dal diritto di sangue, ius sanguinis e i nostri giuristi latini che credevano nell'agenza della famiglia diceva che deve esserci una discidenza diretta. Grazie a tutti.